Ciao ragazzi, siamo appena arrivati, stiamo sulla Strip davanti al Venezian, stiamo andando a cena, troviamo qualcosa a mangiare che non si paga una presa vediamo i spettacoli del Mirascio, i fuochi, saranno 40-50 anni che facciamo questa cosa il nostro Fido Cecere che riprende come un cinese, attraverso la strada mi mettono sotto mi incamino sulla Strip e vado a cena, programmi per la serata Cosbopolitan e vedremo, see you later